Ieri l'inaugurazione con una cerimonia molto bella in onore di Leandro Castellani, quindi da oggi questa sala potrà essere accessibile al pubblico? Assolutamente sì, un anno e quattro mesi fa quando sono arrivata in comune a Fano come assessore alla cultura e ambiente digitale ho visto da subito parlando con voi, parlando con le associazioni che mancavano i luoghi della cultura o meglio noi li abbiamo ma mancano luoghi dove fare cultura, fare nuova cultura, dove potersi esprimere ecco che una sala della cultura era necessaria, noi avevamo questa grande sala che era l'ex sala delle udienze dell'ex tribunale dove inutilizzata, usata come grande corridoio, subito tempestivamente ci siamo attivati per dotarla di un impianto una sala che si può richiedere facilmente, che è gratuita, che è a uso delle associazioni e di chi fa cultura questo serviva, un fatto concreto di aiuto alla città già abbiamo avuto ottimi riscontri da chi ha bisogno di sale così, di spazi come questo ma tanto ancora c'è da fare e tanti spazi sono da rendere utilizzabili ma stando sempre attenti alla spesa pubblica la cosa bella di questa sala è che ha un impatto sulla spesa pubblica minimale Leandro Castellani ieri è stato il protagonista di questa cerimonia di inaugurazione Ed era giusto, è stata una volontà precisa da parte del sindaco Massimo Seri e da parte mia dedicare questa inaugurazione a un uomo che la cultura l'ha fatta, ne ha fatta tanto noi a Fano siamo pieni di persone che hanno fatto cultura però ci sembrava giusto nell'anno dei suoi 90 anni rendere omaggio a Leandro Castellani che ha portato il nome di Fano a livello internazionale ad essere conosciuta una professionalità culturale a cui dare omaggio e a cui rendere rispetto Grazie